benvenuti nel mio angolo dei rig in questo caso vi voglio presentare un rig che secondo me ma non soltanto secondo me ma anche secondo tanti carpisti è il cavallo di battaglia del momento di queste chiamiamole nuove ere di pesca nuovi orizzonti lo spinner rig è uno rig è un rig che ha comunque una storia e oggi un po rivista e corretta in tante situazioni di montaggio proprio per questo vi voglio portare uno spinner rig fatto con un materiale diverso soprattutto nel leader nella giunzione tramo e perché no piombo e led decor in questo caso userò un prodotto di derivazione giapponese affondante alto carico di rottura e soprattutto invisibile e l'ocean leader di shimano un fluorocarbon veramente di altissima qualità un fluorocarbon che si posiziona tra i migliori fluorocarbon che sono in commercio oggi ovviamente per quanto riguarda il carfishing il fluorocarbon che noi andremo utilizzare sarà di 20 30 40 o 50 libre quindi saranno dei diametri del 38 48 58 e 63 nei casi estremi che comunque ci darà una sicurezza in posti magari con ostacoli dove ci sono pietre dove si ha bisogno di combattere dei pesci dove ci sono degli ostacoli taglienti non mi rimane altro che con pochi e semplici passaggi come sempre cercherò di portarvi la costruzione di un rig ad un livello sempre molto easy molto facile ma seguitemi perché ci sono veramente pochissimi nodi e pochissime fasi di costruzione per avere un rig di grandissima efficacia un amo curvo una clip la vado leggermente ad aprire con una pinzetta e la vado ad inserire fate attenzione fate in modo che la clip rimanga con l'apertura verso l'alto in questo modo con un'altra piccola operazione della pinza vado a stringere leggermente in questo caso prenderò un pezzettino di termorestringente che mi vada a coprire la clip e parte dell'occhiello dell'amo in questo modo fate una pressione rotativa in modo che il fluorocarbon si va il il termorestringente si vada ad adattare alla clip eccola qua perfetto adesso prenderemo un gommino e lo vado ad inserire contrario rispetto a come si mettono normalmente queste sono tutte piccole sono tutte piccole che poi danno al rig finale una perché no anche un aspetto visivo bello eccolo qua guardate e adesso con il nostro valido aiuto il fuoco andiamo a far restringere il termorestringente aspettiamo che si restringa ed eccolo qui ed è semplice in questo caso adesso entra in gioco l'oceano leader come collegare l'oceano leader ad un rig così performante come lo spinner personalmente adesso in questo in questo rig vi faccio vedere un nodo che è il loop perfetto io lo voglio collegare così ovviamente ci ci sono tanti altri nodi che possono essere utilizzati un greener un palomar questo è sicuramente sempre a vostro piacimento in questo caso io però mi voglio affidare ad un loop perfetto quindi prenderò il mio ocean leader ne prendo un pezzo generoso e guardate come collego lo spinner al florocar boceano farò un primo passaggio uno mi fermo mi prendo il mio amo sull'occhiello più grande lo vado ad inserire dentro così vado a ruotare intorno così questo in mezzo e due in questo modo adesso prendo l'amo lo passo nella prima asola e con una semplice operazione vado a serrare il loop perfetto avendo cura di creare un lupetto non tanto grande eccolo qua uno due fatto guardate ok togliamo l'eccedenza in questo caso qui si possono utilizzare anche dei piombini per bilanciare se si pesca pop up io per coprire il nodo mi affido invece ad un pezzettino di tubo di tungsteno eccolo qui ne taglio una piccola porzione di circa anche meno di un centimetro e vado a coprire praticamente il nodino in questo modo avendo cura comunque di lasciare perché no anche l'asola aperta guardate rotazione totale più di 360 gradi adesso ovviamente allo spinner per completarlo ci vuole la micro girella con l'anellino più grande eccolo qua inserito in questo modo prendiamo un secondo gommino di stop che in questo caso va messo come deve essere messo dritto eccolo qui inserita eccolo qua prendiamo un conetto decido la lunghezza del rig mi faccio nuovamente un'asola sfruttando il nodo del loop perfetto eccolo qui taglio l'eccedenza e il mio e il vostro spinner rig arma micidiale per le nostre amate carpe è terminato ragazzi non mi resta che augurarvi una buona costruzione e vi ricordo che se avete qualche perplessità dubbio sono presente sui social sulle pagine shimano vi aspetto non esitate a contattarmi buona costruzione ragazzi in quanto riguarda le nostre state